Tutti i restanti passeggeri del volo Kito Merlines K29 per l'oltre aizro sono pregati a dedicarsi al gate B15 Buongiorno a tutti, qui è il comandante Robin Allen che vi parla Il volo di oggi avrà una durata di 6 ore e 54 minuti Restate ai nostri posti! Su, subito! Qui l'operazione è cominciata Telefoni, tablet L'aereo è sotto controllo Dovete venire a vedere Le rotte non erano così Qualcuno sta chiedendo aiuto Hai una famiglia, persone care Abbiamo un solo compito, ora dobbiamo farcela per loro Ho ricevuto un messaggio dall'aereo Papà dice, problema a bordo Che lavoro fa tuo padre esattamente? È difficile da spiegare Sam è il più bravo a gestirla Gestire cosa? La negoziazione Ci saranno tipo 200 persone su questo volo Se provano a fare qualcosa Questo aereo precipita Voglio solo tornare a casa dalla mia famiglia Lascia solo che ti dica la mia inferta È stato appena consegnato una busta con scritto richieste Si è andato tutto storto nella prima ora Immagina nelle prossime sei Dobbiamo far arrivare loro un messaggio Dobbiamo essere pronti Sono in atto altri piani Ci sono cinque passeggeri che non compaiono proprio Una rete che attraversa tutta l'Europa Per loro siamo un missile in arrivo È o noi o loro E lascia che te lo dica Non saremo noi Non saremo noi